I residenti di Via delle Recluse a Teramo lanciano un appello disperato alle autorità. La tranquillità del loro quartiere è turbata da continue incursioni nell'ex manicomio chiuso e abbandonato da anni in attesa del megaprogetto di riqualificazione portato avanti dall'Università di Teramo. Gruppi di giovani descritti come una gang sono stati segnalati per aver scavalcato il cancello e aver causato rumori e urla inquietanti durante la notte. È una situazione che ovviamente con la situazione di stallo del cantiere è determinata dalle ragioni che sappiamo e su cui non voglio tornare se non per ribadire la necessità che si metta in condizione l'Università di poter partire immediatamente con i lavori, con tutte le risorse a disposizione necessarie per l'ex manicomio. Questa situazione di stallo determina questi eventi per cui ho già attivato un percorso con la ASL come soggetto proprietario dell'Università che ho sentito verbalmente per cercare di intervenire nell'ottica di prevenzione e di superamento di questo stato di cose che ormai da troppo tempo va nella direzione che ovviamente non è quella giusta. La situazione sembra aggravarsi ogni giorno di più con i cittadini che ora chiedono un intervento immediato. La comunità teme che l'edificio possa diventare un luogo di pericolo se non verranno prese misure adeguate. Intanto per quanto riguarda la polizia locale è allertata e già da tempo e quindi fa la sua parte ma nel dialogo con tutte le altre forze dell'ordine. Credo che però si debba intervenire in modo strutturato proprio per evitare in modo permanente prevenire appunto la creazione di queste situazioni. Quindi andremo avanti in questa direzione ascoltando ovviamente tutti i soggetti competenti. Cosa vuole dire ai residenti? Ma non possiamo che chiedere come tu istituzioni tutte al di là delle competenze insomma perché scusa per la condizione che vive l'ex manicomio che dipende dalle ragioni che sappiamo e ovviamente l'impegno non può che essere quello di lavorare tutti anche al di là delle proprie competenze specifiche che in questo caso il comune non ha per però lavorare e ridurre al minimo i disagi dei residenti di un quartiere che stanno pagando da troppi anni veramente le conseguenze di questa situazione di stalla.